Cristo risorto, buongiorno carissimi fratelli e sorelle, con slancio, con entusiasmo, con gioia iniziamo questo giorno, lo viviamo assieme al Vangelo di Giovanni che stiamo leggendo in questo tempo un Vangelo davvero molto molto bello, un capitolo che ci tocca al cuore e oggi continuiamo quello che ieri abbiamo ascoltato, ovvero Gesù parlando al Padre ha detto Padre consacrali nella verità, la tua parola è verità, quindi la parola di Dio è la verità che ci rende liberi in tutta la nostra vita e poi dice al versetto 22 la gloria che tu hai dato a me io l'ho data a loro perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa, io in loro e tu in me perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che tu li hai amati come hai amato me, amè. Davvero questa parola è davvero forte, bella è la consacrazione di Gesù che chiede per noi al Padre che noi siamo una sola cosa. Ecco che ci tocca questa parola, è molto profonda, è davvero vera perché il centro del Vangelo di Gesù è l'unità perché quando dice di amarsi così come lui ci ha amato, quindi fino a dare la vita, ecco che ancora di più lo stare insieme come il Figlio con il Padre, il Padre con il Figlio nello Spirito Santo. Questo è il centro, è Gesù che prega il Padre dicendo che siano una sola cosa e questo è davvero molto forte. Coinonia, questo è il nome, la comunità che sono di un corpo salvato, di persone che sono in lui, in Gesù, una sola cosa e per questo oggi fratelli e sorelle dobbiamo chiederlo per la nostra vita, per le nostre famiglie, per le nostre comunità, per le nostre parrocchie, per i nostri paesi, per tutta la Chiesa, per tutte le Chiese, dobbiamo chiedere unità, chiediamo al Signore o Padre fa che siamo una cosa sola, fa che camminiamo in Te e fa che l'amore che è in noi sia un amore vero, sincero, quell'amore che ci rende disponibile di donarci, disponibile di aprirci all'altro come tu hai fatto con noi, oh Padre. E dice Gesù al Padre affinché noi siamo perfetti nell'unità e il mondo aveta. La testimonianza che noi dobbiamo dare agli altri è l'unità. Dove tu sei, dove io sono, dove noi viviamo, dove noi lavoriamo, dove noi operiamo, dove noi andiamo, dobbiamo portare unità, comunione, coinonia. Da questo sapranno che siamo Suoi discepoli. Quindi chiediamolo insieme oggi al Signore che di essere strumento suo, strumento di comunione, strumento di unità e non di divisione. Tutto inizia dalla mia mente, quindi un pensare positivo degli altri, tra di noi, dal mio cuore, un amare, un sentire positivo e un rifiutare tutti quei sentimenti negativi, rancori o risentimenti che ci vengono e accogliere invece il regno di Dio nell'amore, nel perdono, nel desiderio di camminare insieme, nel desiderio di donarci agli altri. Allora chiediamolo oggi, fratelli e sorelle, perché possiamo essere segno di unità al mondo. E il mondo veda che dove ci sono i cristiani, dove siamo noi, c'è Gesù. Ma soprattutto c'è unità, c'è comunione. E il cristiano lo si riconosce da lontano perché crea comunione, non crea divisione. E quindi le nostre lingue possono essere belle, positive, parlare bene, benedire, proporre, gioire, essere portatrici di speranza. I nostri gesti, il nostro modo di agire possa essere bello, possa essere generoso verso gli altri. Quindi io Padre te lo chiediamo davvero, nel nome del tuo figlio Gesù, sotto l'azione dello Spirito Santo, fa di me, fa di noi uno strumento di pace, uno strumento di unità, uno strumento di comunione. Porta la coinonia attraverso la mia vita, le nostre vite, perché il mondo creda che tu ci ami, che tu mi ami e il mondo sperimenti questa perfetta unità, come c'è tra te il Padre. Amen. Fratelli e sorelle, buona giornata. A presto. Un caro saluto da parte mia e di tutti i fratelli e sorelle consacrate dell'Oase di Biella. Ciao! Vieni a noi, maranata, riempi ci, maranata. Vieni a noi, maranata. Maranata, vieni a noi, abbiamo bisogno di te, vieni presto. Maranata, vieni Gesù, il nostro cuore, abbiamo bisogno di te, vieni presto.